58 nuovi arrivi nel fine settimana nella provincia di Arezzo. Il flusso migratorio non si arresta e la nuova ondata si è fatta sentire anche nell'Arettino. I migranti arrivati in provincia saranno ridistribuiti sull'intero territorio provinciale. 25 al momento sono ospitati a Rigutino, al Palace Hotel. Questi arrivi rientrano nelle misure contenute nella circolare urgente diramata dal Viminale firmata da Mario Murcone, che prevedono la presa in carico di 70 migranti per ogni provincia italiana. Quella Arettino ad oggi sta ospitando per la prima accoglienza 850 profughi, 270 dei quali al momento si trovano nel comune di Arezzo. La nuova ed inarrestabile ondata di arrivi si sta facendo sentire in tutta la penisola e proprio dalla regione toscana insieme a Lanci arriva la richiesta al governo di trovare nuove soluzioni, proponendo un piano composto da 8 punti per affrontare insieme al governo la situazione emergenziale, ma con una richiesta inderogabile che l'accoglienza rimanga diffusa. Tra le priorità sottolineate dalla regione, la necessità di una collaborazione di tutti i comuni per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti, non ancora infatti distribuita su tutto il territorio e l'apertura di nuovi bandi per gli spra. Ma dalla regione arriva anche la proposta per l'accoglienza di richiedenti asilo in famiglia o in appartamenti privati, opportunità che ancora attende il via libera dal Ministero. Viene poi sottolineata la necessità di utilizzare gli immobili inutilizzati dei vari enti dello Stato, ma anche di ripopolare i borghi disabitati con l'inserimento dei migranti in strutture pubbliche disponibili legate alla forestazione e all'agricoltura. Infine, ha sottolineato l'assessore regionale Bugli, è fondamentale al fine di evitare che parte degli ospiti finisca per nascondersi in circuiti irregolari e occuparsi anche di chi non avrà diritto a tutela umanitaria o asilo con percorsi di accompagnamento o anche progetti di cooperazione internazionale. Grazie. Grazie. Grazie.